E' iniziata la marcia di avvicinamento dell'Avellino in vista della trasferta in programma sabato alle 15 all'Ossola contro il Varese. Gli allenamenti sono ripresi questo pomeriggio a porte chiuse al Partenio Lombardi. Alle spalle il K.O. maturato venerdì scorso in casa del Vicenza si punta con decisione al pronto riscatto nella tana del fanalino di coda del campionato di Serie B che scenderà in campo tra pochi minuti al Curi per sfidare i padroni di casa del Perugia nel posticipo della 35esima giornata. Ancora ferma i box frattali colpito da un attacco di varicella nella scorsa settimana che lo ha costretto a saltare il match del Menti, lavoro specifico per Visconti, mentre si sono allenati regolarmente in gruppo Mokulu e Vergara. Domani chiuse e Bittante si raduneranno con la B Italia. Il programma di lavoro della squadra prevede domani una doppia seduta di allenamento a porte chiuse al Partenio Lombardi. Intanto la Lega Serie B ha comunicato le date di anticipi e posticipi relativi alle ultime tre giornate. Avellino Pescara, valevole per il diciottesimo turno di ritorno, esilitata da sabato 2 a domenica 3 maggio. Il calcio d'inizio è stato fissato per le ore 18.